Sono 350 nuovi positivi al covid-19 in Sicilia su 19.000 circa, tamponi processati con un'incidenza quasi dell'1,8% in diminuzione rispetto a ieri sera che era invece all'1,9. La regione in questo momento è settima per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 17 e portano il totale a 5.737. Il numero degli attuali positivi è di 13.267 con una diminuzione di 748 casi. I guariti oggi sono 1.081. Negli ospedali ricoverati sono 766, 22 in meno rispetto a ieri. Quelli nelle terapie intensive sono 104, 5 in più rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede Catania prima per positivi con 84 casi, poi Messina con 74 e Palermo con 53. Ma la vera notizia, quella più incoraggiante, è che con l'1,6% a livello nazionale nelle ultime ore si è toccato il tasso di positività più basso di tutto il 2021. Ed è un motivo per sorridere e per comprendere che piano piano in effetti stiamo recuperando terreno. Ma non è l'unico motivo per guardare con fiducia i dati, visto che in Italia al momento sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-covid. La soia dei 30 milioni è stata superata e dopo le ore 17 il numero esatto di inoculazioni registrate era di 30.158.028. Sono 4.717 invece positivi in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.218.